Qua, prima con la paranzia, vado a spingermi lì, allora, è per uscire delle pene a giù, la mano, qua, andando su un gomito qua, per evitare, entro dentro un po' paghiamo, no? Allora, gomito basso, manchi. Dimmi quando fermare. E' il debito dei fattori di giardia a fare 100 kg. Una prova, da qua, con questo debito, spingo, entro qua, guardo qua a testa, mi porto su un braccio, me lo chiudo. E qua, mi abbraccio dalla parte destra, dalla parte verso le suoi navi, da qua, come faccio, pressione, salto con il ginocchio sulla sua pancia. Faccio simulare il suo braccio sulla mia spalla, fino ad arrivare alla mano, qua spingo sempre il suo gomito, vedi come si spiega in questa direzione, qua, non così. Deve essere qua, devo tenerlo girato, da qua, faccio pressione, ginocchio lì, spiaccio, pressione sul gomito. Da qua, faccio, da qua, fino a su, no? Un abbraccio. Un obbraccio. Un obbraccio sulla pancia, abbraccio la gamba, afferro tutta la mano sotto il suo gomito, scivolo, pressione. Un obbraccio. Grazie a tutti.